buongiorno ecco la storia di oggi la valle dei mulini nella valle dei mulini vivevano uomini donne e ragazzi simili a tutti gli altri poi un giorno arrivarono le macchine perfette grazie alle macchine perfette tutto era perfetto bastava schiacciare un pulsante per vivere un momento perfetto mangiare un dolce perfetto avere un amico perfetto e dunque a quale scopo chiedere alle stelle cadenti di esaudire i desideri fu così che gli abitanti della valle dei mulini smisero di sognare il villaggio si dimenticò perfino dei vecchi mulini e del vento che li faceva girare sicché un bel mattino il vento non soffiò più gli abitanti della valle non si accorsero neppure della sua assenza non avevano occhi che per le loro macchine perfette da allora i mulini le braccia ormai mobili dormono eppure qua e là nel cuore della valle dei mulini sonnecchia ancora qualche sogno nascosto uno è quello di anna la sarta del paese da quando le macchine perfette si occupano di tutto anna non ha molto da fare a parte qualche piccolo ritocco di vestiti tuttavia ogni volta che l'ago buca la stoffa lei immagina di ricamare merletti di spuma di mare bottoni di stelle mantelli fatti di nuvole la sera quando spunta la luna le macchine perfette fanno addormentare il villaggio solo anna resta sveglia una notte scorge una strana sagoma che si staglia in lontananza là dove dormono i mulini è il profilo dell'uomo uccello cosa fai lì gli domanda anna cerco di volare voglio ballare con le nuvole vedere il mondo all'incontrario risponde il gigante volare si meraviglia la sarta sì ogni giorno prova a costruire delle ali che mi possano portare fino al cielo anna sorride anch'io ho conservato i miei sogni ti cucirò un abito per volare il giorno dopo anna si mette a leggere tutti i suoi manuali e i trattati di sartoria li esamina in lungo in largo da cima a un fondo mette in moto il suo esercito di vitali le prova tutte ma in vano è un bel problema far volare un gigante come fosse una piuma all'improvviso le torna in mente un luogo il giardino dei soffioni è laggiù che gli abitanti del villaggio formulavano i propri desideri prima che arrivassero le macchine perfette quando c'era ancora il vento è laggiù che anna andava a soffiare arrivata nel giardino anna coglie un soffione chiude gli occhi forte forte ed esprime un desiderio vorrei fare un abito per volare poi soffia una brezza leggera le colora le guance le accarezza i capelli e il vento che si leva prende il soffione lo porta via lontano anna insegue il soffione che la conduce fino in cima alla montagna ai piedi del pettine del vento il vento vi si riversa e lascia molti capelli imprigliati nei denti rocciosi anna allora capisce perché è stata guidata a figli ecco i figli con i quali potrà cucire l'abito dell'uomo uccello molto più tardi nella sua bottega anna si è addormentata esausta sul grosso comitolo di fili da cui qualche capello di vento sfugge durante la notte è riuscita a mantenere la promessa che aveva fatto all'uomo uccello e a realizzare l'abito che aveva sempre sognato all'alba un rumore riscuote dall'indolenza tutto il paese un sonorauco come il respiro profondo di qualcuno che si risveglia da un sonno di diversi secoli sono i mulini che cominciano a sgranchirsi le braccia il vento spande per le vie del villaggio tutti i desideri dimenticati gli abitanti aprono le finestre voglio scoprire un tesoro io voglio fare il giro del mondo una dopo l'altra le macchine perfette si spengono nella valle dei mulini il vento prosegue la sua corsa fino alla bottega di anna si infila nell'abito che lei ha cucito per tutta la notte lo porta all'uomo uccello come il più prezioso dei regali oggi è un giorno di festa tutti gli abitanti della valle dei mulini sono riuniti nella piazza principale del paese per celebrare il ritorno del vento un immenso uccello attraversa il cielo al di sopra delle loro teste anna sa di chi si tratta l'uomo uccello che danza tra le nuvole con le ali dei suoi sogni fine